Coach Alessandro Campagna, primo test per i Settebello, un test positivo, vinto contro la Grecia, o meglio positivo, aspetto che me lo dica lei, però diciamo, almeno dal punto di vista del risultato si è visto qualcosa di interessante. Per quanto riguarda la prestazione, devo dire che ho visto alcuni momenti, abbiamo giocato molto bene, altri abbiamo commesso alcuni errori, però la base del nostro gioco è di alto livello, però da questa base di alto livello dobbiamo aggiungere sempre qualche cosina di più coordinato, di più perfezionista. Io sono un perfezionista, dobbiamo ancora curare alcuni dettagli, però devo anche dire che in questo torneo c'è un pubblico straordinario, una piscina meravigliosa che ci ha sostenuto e sono convinto che anche domani e dopo domani ci sarà il pienone, per cui per i giocatori è veramente un piacere giocare con questa atmosfera. Ecco, l'abbiamo vista sul punteggio già definito, ma non ancora del tutto, scaldarsi e scaldare il pubblico di conseguenza su alcune decisioni arbitrali, insomma è un test già significativo, è un test che quindi va vissuto intensamente fino all'ultimo secondo. Sì, perché voglio tenere sempre sulla corda i giocatori, per cui se commettono degli errori loro è giusto che li richiami, però in certi momenti vanno anche protetti perché c'erano alcune decisioni che oggettivamente erano contro di noi. Grazie. Prego.